Ragazzi, allora, buona giornata a tutti un'altra volta, buon inizio di settimana a tutti Prima cosa da fare, come sempre, mettere in piaccia video, poi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Seguitemi su tutti i social, Instagram e quant'altro, mi raccomando Quindi, prima cosa da fare però, per supportare gratuitamente il canale, come vi dico sempre Per appunto appoggiarmi, se apprezzate quello che appunto vi porto, vi dico Il mio pensiero, il mio modo di essere, anche se magari non condividete il mio pensiero Ma come lo espongo e quant'altro Mettete in piaccia video, appunto, per supportare gratuitamente il mio canale Allora, detto questo, detto questo Adesso parliamo un attimo, perché oggi abbiamo fatto il video, appunto, ho pubblicato il video il giorno dopo Alle 18 ci sarà l'analisi tattica, appunto, di Inter-Juventus Che andremo ad analizzare meglio, tatticamente, la partita Soprattutto nostra E, soprattutto Adesso, più che altro, dobbiamo un attimo fare Mente locale Su quello che è stato riportato ieri, prima della partita Su quello che continuano a ribadire anche, appunto Oggi alcuni esponenti del tifo, alcuni giornalisti e quant'altro Alcuni esponenti, alcuni tifosi che comunque hanno più risalto Allora, Antonio Corsa ha fatto un X Un posto su X Dicendo che da quello che risulta a lui Viene categoricamente smentita Una eventuale lite tra Gatti e Tiago Motta Quindi tutto quello che andrebbe, che è stato detto in questi giorni qua Andrebbe a cadere Allora, io sono dell'idea che Anche, qualora ci fosse stata la lite Sarebbe una lite di poco conto, per come la vedo io Ma, dovesse esserci stata veramente Siccome non l'avrebbe nemmeno messo in campo Neanche convocato tra un po' Magari, dicendo che era infortunato, rotto e quant'altro Ma, secondo voi, no? Con tutte, diciamo, le situazioni che abbiamo visto in questi anni qua Per mascherare le liti Non mascherano la lite, magari proprio non convocandolo E dicendo che ha avuto un infortunio muscolare Faccio un esempio Io credo che Non convenga Motta portarselo in panchina Non dire che aveva problemi fisici Che ha detto semplicemente che era un po' giù di condizione rispetto a Danilo E basta E poi metterlo comunque negli ultimi 20 minuti 15 minuti, quello che è Io non credo che convenga Motta fare questo giochino qua Se ci ha litigato veramente Io non ho mai creduto alla storia del litigio Secondo me, semplicemente Ogni tanto Anche se è difficile quando vediamo Danilo in campo Ogni tanto bisognerebbe un attimo fidarsi del allenatore Nel senso che Ci sta la critica Però non credo che sia stupido Motta Cioè, se mette Danilo e non Gatti È perché in questo momento qua Con infortunio e Bremer ha questi Diciamo la batteria dei difensori era completa Poi se uno si fa male ai legamenti Non puoi prevederlo ovviamente Quindi è un conto all'infortunio scolare Che ti sta fuori qualche settimana o qualche mese Un altro conto è Insomma, l'infortunio ai legamenti Che ti sta fuori tutta la stagione Ma probabilmente Essendo che abbiamo diverse partite In questo momento qua Quando un giocatore è fuori condizione O è più giù di condizione rispetto ad altri compagni Forzarlo e farlo giocare spesso E volentieri potrebbe poi portarlo Ad avere problemi fisici Io credo che sia questa la lettura Al di là del discorso tecnico Che per me la Motta ha sbagliato Va detto Perché non puoi dirmi Eh, Motta, Danilo se impostare Gatti no Gatti sicuramente non hai piedi di Danilo Ma non è che mi sembra Che abbia fatto chissà che cosa Danilo a livello tecnico e di pulizia dei passaggi Per come la vedo io Un altro conto è Mettere in paragone Diciamo di Gregorio Perin Perché poi di Gregorio Un altro che ieri è stato criticato Per l'uscita Per il gol di Mkhitaryan Per me non poteva fare Cioè poteva fare un qualcosa in più Ma non è che È un errore suo Secondo me È un errore di tutto il reparto Sia di qualche centrocampista Sia di qualche difensore Ma poi lo vedremo Sul gol di Dumfries Qualche responsabilità ce l'ha sicuramente Però poi se siamo rimasti su 4-2 Lo dobbiamo ringraziare Cioè lo dobbiamo ringraziare lui Poi non è che abbiano avuto chissà che occasioni Perché poi mi portano statistiche Vai a vedere su Sofascore E leggi Grandi occasioni Inter 3 Grandi occasioni Juventus 3 Grandi occasioni sprecate Inter 1 Grandi occasioni sprecate Juventus 1 Poi ripeto Statistiche vanno contestualizzate Perché di fatti potenzialmente L'Inter ha avuto più occasioni di noi Ma soprattutto su calci piazzati Perché la punizione di Di Marco L'angolo di Lautaro Martinez Colpo di testa Un altro angolo mi pare Con De Vrij Che la tira alta di piede E l'unica sua azione Se non sbaglio Quella di Lautaro Martinez Che riceve palla Mi pare a Tioram Dietro All'altezza del rischio di rigore Che la tira alta Mi pare che sia solo quella Parlo dopo il 4-2 Perché le altre occasioni che dicono Le abbiamo subite sul 3-2 Quindi non è detto che Facendo un quarto Poi fanno anche il quinto Magari Se fanno subito Alla prima occasione Che hanno avuto nel secondo tempo Il quarto gol Magari la Juventus si sveglia prima E Mota fa i cambi prima Quindi E magari poi la va anche vincere Quindi non è detto questo Detto questo Vabbè insomma Queste sono situazioni Che poi ripeto Andremo ad analizzare Dopo Io vi preannuncio già Che ieri la partita L'ha vinta Tra virgolette Nel pareggio In generale Parlo appunto di Di vittoria Perché poi nel secondo tempo È finita 2-1 per noi Nel secondo tempo Nel primo tempo Tra 2 per loro Nel secondo tempo 2-1 per noi Nel secondo tempo Ha vinto Motta Contro Simone Inzaghi Con i cambi Non solo Di uomini Ma anche tattici Quindi Questo Poi appunto Lo evidenzieremo Ma allora Se non c'è la lite Tra Gatti E Tiago Motta Perché ha messo Danilo E poi Senza Danilo Avremo sicuramente Vinto la partita Cioè Io questa sicurezza Io Ma sempre Non l'ho mai Sopportata Perché Non possiamo Pensare Che con Che senza Danilo Magari Gatti Non avrebbe comunque Commesso alcuni errori Che poi Ripeto Il senno del po' Cioè Più che altro Con i secondi ma' Non si fa niente Guardiamo E analizziamo Quello che ha fatto Danilo Che è un disastro Sicuramente Però da qua Dire che Sicuramente Senza Danilo Avremo vinto la partita E Quindi se non l'abbiamo vinta Per colpa di Motta Cioè Adesso con tutto rispetto Ragazzi Cioè si va a prendere Proprio il pelo Nell'uovo Senza valutare Il cambio tattico Che ti ha fatto Riaggiungere Riagganciare la partita Nel secondo tempo Se si sofferma Su un uomo Che è stato sbagliato La sua titolarità È stata sbagliata Quello che volete Ma poi Per il resto Per me Motta Al di là degli sbalzi Diciamo Umorali Motivi Mentali Di tutta la squadra Motta Ha fatto Secondo me Dei cambi intelligenti E lui Come ci ha fatto Perdere la partita Con lo Stoccard Perché sono stato onesto lì Ce l'ha fatta Non perdere ieri Bisogna dirle ste cose Poi post partita Simone Inzaghi Mi sembra veramente Allegri Probabilmente scaglia La colpa Solo sui giocatori Motta invece Parla di noi Ci si lamenta Perché Motta Non dice Che Danilo Ha sbagliato Ma ragazzi Si diceva di sta roba qua Di Allegri No Che cazzo Lui Non può Sbattere In pubblico L'errore individuale Certo che Di persona Glielo dirà Ok Però Fa bene a dire È colpa nostra Potevamo fare di più Dopo una partita del genere Che tutti noi Eravamo entusiasti Per il 4-4 Lui comunque Si è stato molto Equilibrato ieri Nonostante tutto Perché ha visto Le cose positive Ma ne ha viste anche diverse Che non sono andate bene E che migliorando Quelle cose là Che non sono andate bene Sa benissimamente Che questa squadra qui Con I ritorni Dei infortunati Può rendere molto Molto di più Può anche ottenere Ottimi 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 risultati Poi Motto è stato Criticato Anche sul discorso Napoli-Roma Eh sì Napoli-Roma Napoli-Inter Sono le favorite È un dato di fatto Per come la vedo io Eh ma La Juve La Juve ha speso Il Napoli ha speso più di noi Se voi guardate Hanno un negativo Maggiore rispetto al nostro Noi abbiamo Un meno 53 54 Una roba del genere Loro hanno Un meno 130 Quindi di che cazzo parliamo Se noi guardiamo solo All'aspetto economico Hanno più l'obbligo loro Per una serie di motivi Due anni fa hanno vinto Lo scudetto Conte È nato degli scudetti Soprattutto Con una partita a settimana Simone Zaghi L'Inter Sono lì da 4 anni Ma io Sull'Inter ragazzi Se voi Vi ricordate A fine della scorsa stagione Senza guardare niente Guardando poi Eh Il mercato Poi che è stato fatto in estate Quindi Ho confermato questa tesi qua Ho detto Ragazzi Secondo me l'Inter Ancora quest'anno Può reggere Per competo e per lo scudetto Ma non è una squadra Longeva per me Non è una squadra La Juventus sta costruendo Per il futuro Quindi è possibile Che la Juventus Nel primo anno Non vinca E poi magari Qualcosina Lascerà L'Inter Alla Juventus Comunque anche in Napoli Quindi Può essere che l'Inter Sia appunto Più per l'immediato Ma a lungo andare Uscirà più La Juventus Poi Le dichiarazioni di ieri Sul discorso Scudetto Non scudetto Il primo anno Lo abbono a Motta Sotto questo aspetto qua Anche su queste dichiarazioni qua Perché ha ragione Poi è normale che Al secondo anno Che sia scudetto Sempre su quant'altro Ma lui ha detto Sempre dall'inizio Noi dobbiamo Competere Ambire Per competere Su tutti i fronti Ogni partita In ogni competizione Quindi questo va sottolineato Poi Andato di fatto Per me che l'Inter e Napoli Hanno qualcosina in più di noi Qualche sicurezza in più Soprattutto Però ovviamente Ok non va in soffitta Ok non va in soffitta Per il cambio D'allenatore Quindi E' quella la coppa Poi lo scudetto Se lo vinco Festeggio Se non lo vinco Non è che mi Spacco la testa Per la Champions E' un'altra cosa Ecco perché Nel 2026 Arriveremo a fare Trent'anni Senza Champions E' quello che mi dà fastidio Noi quattro anni Senza scudetto Con tutto rispetto Ne abbiamo 38 Quindi E quindi questa è una serie Di cose Che appunto Le volevo analizzare Con voi Gatti e Danilo Ovviamente Gatti Ieri è entrato E ha fatto E' alzato Il baricentro L'intensità Anche Bangulà Ha dato una mano Sia in fase di possesso Sia in fase di non possesso Quindi I cambi sono stati Tutti azzeccati Ieri Da parte di Di Motta Questo poco ma sicuro Però poi Nel post partita Inzaghi Dà la colpa Ai propri giocatori Motta no Motta Dice Noi Quindi questa è una cosa Molto importante Molto importante Per lo spogliatoio Molto importante per tutti Quindi Questo Questo Per quanto mi riguarda Non so Ditemi la vostra Cosa ne pensate Di questo Di questa presunta Lite tra Gatti E Motta Se ci credete Antonio Cosa appunto Vi ho detto che A lui risulta di no Io non ho mai creduto Effettivamente questa Dite qua Per me Se non è un problema Fisico È perché magari Gatti è veramente Non in condizione Come lo era all'inizio E quindi per evitare Che non essendo in condizione Tu lo solleciti Per poi magari Metterlo in condizione Di avere problemi fisici È stato preservato Ma Danilo giocherà ancora Abbiamo tante partite Ragazzi Abbiamo tante partite Giocherà ancora Purtroppo Questo è un dato di fatto Quindi Dovremmo essere In grado di Poi Su discorso Prendere Ramos Ragazzi Ramos Secondo me Farebbe le stesse Figure di merda di Danilo In questo momento qua Perché È Già da altri 4 anni Non è che stesse facendo Chissà che cosa Con i ritmi di Motta Non ci starebbe mica Avete visto ieri Kaluru Il fallo che gli hanno fischiato Che non c'era L'87 Mi pare È andato a prendere Il giocatore dell'Inter Mi pare fosse Proprio anche Tu Ram Nella metà campo loro Queste cose qua Ramos non ce le ha Come non ce le ha Danilo Infatti Danilo è sempre Stato in ritardo Ieri Ma poi lo valuteremo Danilo è stato Facilitato Quando doveva marcare Lautaro Martinez Quando invece Si sono invertiti E quindi Lautaro è andato Su Kaluru E Tu Ram è andato su Danilo Danilo non ci ha capito più Un cazzo Comunque Questo È per quanto mi riguarda Ditemela vostra ovviamente Sotto nei commenti Dopo aver lasciato ovviamente Mi piace Fino alla fine Sempre comunque Forza Juventus E noi ci vediamo in live Ovviamente alle 18 Per l'analisi tattica Di Inter Juventus Ciao a tutti